Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questa serata di incontro con l'autore che è una serata un po' diversa dal solito perché di solito presentiamo romanzi invece questa sera abbiamo un autore direi poliedrico perché è un psicologo, un sociologo, un cantautore e quindi insomma... ...presenterà gli argomenti del libro soprattutto e poi le darlerà a lui, io non anticipo nulla anzi c'è poco da anticipare perché avete visto sulla roccandina l'ansia non è un difetto e quello che vi volevo dire è che alla fine della sua presentazione voi potete intervenire con le vostre domande, i vostri dubbi e lui avrà la gentilezza, avrà il piacere di rispondere Grazie a tutti, ecco, quindi buonasera a tutti Grazie 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 Funziona? sentite bene? grazie di essere venuti così tardi sì, parlerò di una cosa abbastanza comune ovvero l'ansia penso che più o meno tutti l'abbiamo trovata in qualche modo, vero o no? sì, sì se siete qui, penso che sì magari mi ricolleverò in particolare a tre miei libri una è proprio specifico l'ansia non è un difetto poi vi dirò perché il coraggio di cambiare vita che riguarda anche questo comunque l'ansia e l'autostima si impara perché anche l'autostima ha a che vedere con l'ansia allora io mi occupo di ansia purtroppo da circa 30 anni quindi diciamo che è una tematica che conosco molto bene e affronto molto spesso diciamo subito che l'ansia ci ha salvato la vita dal punto di vista della specie della specie umana dal punto di vista filogenetico l'ansia è stata è stata uno degli aspetti che ha contribuito alla conservazione della nostra specie perché l'uomo a differenza degli animali ha la capacità di immaginare e prevedere il futuro cosa che agli animali si crede almeno e sfuga e questa previsione del futuro mette anche ansia per vari motivi se l'uomo ai primordi naturalmente si fosse inaltrato in una foresta senza prudenza senza ansia probabilmente non sarebbe sopravvissuto quindi l'ansia sotto certi punti di vista è molto utile io seguo anche dei campioni dello sport ad alto livello e loro hanno bisogno di un po' d'ansia per caricarsi perché l'ansia comunque prevede una scarica di adrenalina non adrenalina cortisolo e soprattutto i gormoni che ci attivano che ci mettono all'erta in uno stato di arousal si dice cioè di allerta ed è quindi l'ansia ha una sua utilità sotto questo profilo cosa succede poi succede però che l'ansia non ha solo questo questo aspetto ma poi prende troppo piede magari no poi diventa una sorta di condanna tra virgolette certe volte ebbene il mio libro a cui mi sono riferito prima cioè l'ansia non è un difetto che ha suscitato devo dire un certo tra virgolette scalpore per il titolo perché l'ansia vista da tutti come qualcosa di negativo e questo è stato già pubblicato circa 6-7 anni fa però hanno fatto varie edizioni beh l'ansia non è un difetto perché è un messaggio è qualche cosa che ci avverte di qualcos'altro è come un messaggio in bottiglia che dobbiamo interpretare è qualcosa che ci mette allerta ma ci dice anche che c'è un aspetto una situazione qualsiasi cosa che non funziona dentro di noi o fuori da noi beh dentro di noi nel senso di come ci sentiamo con noi stessi o di quello che pensiamo di noi o di quella o di quella che è la nostra vita allo stato attuale fuori da noi invece è qualcosa che non ci piace all'esterno quindi nel nostro ambiente familiare sentimentale oppure dal punto di vista professionale no? quindi quando scatta quest'ansia ci sta dicendo qualcosa infatti io direi la cosa importante è soprattutto capire perché il perché io so che gran parte delle persone pensa di acquetare quest'ansia attraverso dei farmaci ed è la cosa più diffusa i farmaci sono anche utili tanto è vero che spesso a me capita di indirizzare qualche paziente dallo specialista dal medico specialista dallo psichiatra per un discorso farmacologico soprattutto quando l'ansia è molto debilitante molto forte soprattutto quando sussistono delle attacche di panico tuttavia il farmaco tampona il farmaco toglie il sintomo o abbassa i livelli dei sintomi ma non tratta mai le cause ci sono persone che dicono io sono guarito grazie ai farmaci si sei guarito grazie ai farmaci perché probabilmente è cambiato anche qualcosa nella tua vita era una situazione magari che prima era problematica si è migliorata oppure grazie ai farmaci hai avuto una spinta e grazie a questa spinta hai fatto qualcosa di nuovo di diverso nella tua esistenza però il farmaco in se stesso non risolve perché non risolve perché l'ansia non è una malattia non è un virus anche l'ansia quando è molto forte e viene viene chiamata e scritta come un disturbo non come una malattia non esiste il virus dell'ansia e non è vero che l'ansia è genetica assolutamente no succede che l'ansia possa essere trasmessa in famiglia per cui i genitori ansiosi o basta anche un genitore ansioso insegna senza volerlo naturalmente insegna l'ansia al figlio o ai figli o alla figlia per cui poi si diventa ansiosi ma se questa questa persona questa figlia o figlio fosse stata adottata ipoteticamente non avrebbe ansia probabilmente a meno che capitasse in un'altra famiglia ansiosa allora sì queste ricerche sono state fatte negli Stati Uniti molti anni fa quando era possibile adottare gemelli monozigoti quindi identici fisicamente anche geneticamente nel modo di pensare anche era possibile che venissero adottati da famiglie differenti e hanno notato tutte queste cose che ad esempio uno di questi gemelli era molto ansioso ripreso agitato l'altro tranquillissimo perché l'ambiente era tutto diverso quindi l'ansia non si eredita geneticamente non è un virus certamente nel momento in cui l'ansia diventa cronica e per cronica dico che purtroppo duri per molti anni e poi diventa una modalità di vita e quindi poi diventa difficile difficile liberarsene anche se io credo che sia sempre possibile migliorare e migliorare come? attraverso un approccio psicoterapeutico prima di tutto dove si vadano a comprendere a capire le cause i motivi dove si possa insegnare aiutare questa persona a trovare nuove strategie nuove modalità nuovi atteggiamenti nuovi comportamenti e poi anche attraverso specifice tecniche esistono tante tecniche psicologiche molto utili in caso d'ansia tra cui una è anche l'ipnosi parlo dell'ipnosi perché è un specialista bene allora comunque io stasera mi riferisco naturalmente a quell'ansia che viene chiamata anche ansia generalizzata oppure agli attacchi di panico non all'ansia che è conseguenza di altre problematiche per esempio una depressione porta con sé ansia può portare con sé ansia un disturbo psichiatrico può portare con sé ansia una situazione di disturbo ossessivo compulsivo porta con sé ansia un'ipocondria porta con sé ansia però io mi riferisco proprio a quell'ansia che può essere anche molto disturbante certamente però che ci segnala qualche cosa ci dice un qualcosa che non è un sintomo che è insieme a un'altra costellazione di sintomi quindi escludiamo anche le patologie organiche perché forse non tutti sanno che alcune patologie fisiche possono provocare ansia tra cui un disturbo di ipertiroidismo per fare un esempio oppure un disturbo cervicale per cui cosa succede un disturbo cervicale può portare vertigini sbandamenti formicoli quindi una persona che ne soffre comincia a preoccuparsi e sviluppa ansia anche se in questo caso l'ansia è una conseguenza di una preoccupazione allora l'ansia ha varie forme l'ansia è un po' come l'acqua che si è adatta ai vari contenitori in questo libro l'ho dato vari nomi ma intanto c'è classica un'ansia della prestazione quando si parla di ansia della prestazione non ci si riferisce solo alla sessualità perché molto spesso si sente l'ansia della prestazione in campo sessuale ma la prestazione riguarda vari aspetti della vita quotidiana oggi la società si basa sulla competizione sul confronto quello che conta sono sempre i risultati anche se è molto brutto tutto questo però è questo che funziona che va e allora l'ansia della prestazione può essere anche può anche riguardare altri aspetti tipo i colloqui di lavoro oppure quello che sto facendo stasera è una prestazione parlare in pubblico è una prestazione sportiva io seguendo tanti campioni di aerosport mi sono sempre confrontato con la loro ansia della prestazione e quindi è questo un aspetto in quel caso cosa fa l'ansia avverte di essere attenti prudenti però quando l'ansia della prestazione è troppo forte sta dicendo a questa persona che ne soffre che non è all'altezza quindi diventa una paura paura di non essere all'altezza paura di fare una brutta figura e qui ci si può ricollegare all'ansia di accettazione che riguarda invece il nostro confronto con gli altri cioè il timore di non essere accettati quindi conosco nuove persone mi non so vado a una festa mi viene ansia perché o ti temo di fare una brutta figura temo di essere criticato di non essere accettato ma anche in questo caso l'ansia ha una funzione positiva che come sta dicendo questa persona guarda stai attenta che devi camminare sulle uova poi è chiaro che a volte è esagerata no? questo tipo di ansia questo tipo di ansia c'è un'ansia molto forte che è quella degli attacchi di panico gli attacchi di panico si verificano per due non so se qualcuno ha mai sofferto qui gli attacchi di panico ma forse è meglio che alzi la mano chi non ne ha mai sofferto ma gli attacchi di panico hanno due ragioni principali in genere naturalmente generalizzando una è quello del paso pieno che a un certo punto trabocca quindi molto stress molta tensione accumulata magari questo è qualche evento traumatico e quindi a un certo punto quest'ansia incamerata questo stress messo dentro esce ma il bello è che esce improvvisamente senza avvisaglie senza avvertire esce improvvisamente spesso in situazioni in situazioni anche particolari magari quando una persona è in una stazione in un centro commerciale e quindi c'è anche quell'idea di non essere aiutato o di fare una brutta figura c'era una mia paziente che diceva no io non entro nei supermercati perché poi se svengo faccio una brutta figura io gli ho consigliato di far finta di svenire e vedere cosa succedeva e ha fatto finta e non mi è successo niente beh non l'ho convinta subito ci è voluta qualche seduta per questo oppure l'altro motivo dell'attacco di panico può essere uno shock un trauma subito soprattutto un abbandono un abbandono o un lutto ad esempio la perdita di una persona cara in famiglia oppure la perdita di un amore quindi una rottura sentimentale quindi cosa succede ci si percepisce abbandonati soli incapaci di cadarsene da sé ed ecco che allora l'attacco di panico sta succedendo come un amore guarda che da sola o da solo non ce la fai poi però che cosa capita molto spesso capita che un attacco di panico ad esempio del tipo che ho descritto in precedenza quello del vaso che a un certo punto è trabocca potrebbe finire lì e non succedere altro il discorso è che poi una persona comincia a avere paura di avere un altro attacco di panico e in questo modo continua a fabbricare ansia e allora nasce la famosa paura di stare male che è un classico non vado lì perché posso stare male e questo fabbrica continuamente altra ansia finché viene un altro attacco di panico questo va a rinforzare l'idea di non farcela di avere sempre questo problema e diventa un cane che si muove la coda o una catena continua di attacco di panico in realtà tante ricerche americane perché loro sono quelli che hanno più ricerche in questo campo ci spiegano che se è un ansioso perdesse la memoria non avrebbe più ansia hanno visto allora prendendo dalle persone persone che avevano momentaneamente smarrito la memoria in seguito magari a un trauma cranico o una cosa del genere e andando a vedere le loro cartelle cliniche si erano resi conto che molti anche perché l'ansia è un tema diffuso insomma molte di queste persone erano molto ansiose o soffrivano di attacchi di panico alcune di queste persone addirittura non uscivano più di casa e durante il periodo senza memoria non avevano quel tipo di ansia certo erano confusi erano spaisati erano preoccupati perché non è che una persona senza memoria ti scherzi se è contento però ma non avevano quel tipo di ansia questa è un'altra prova che l'ansia non è una malattia non è un virus ma si nutre dei nostri pensieri si nutre della nostra memoria capisco che è difficile perdere la memoria no? però questa è una situazione tentica c'è poi un tipo di ansia che a me piace molto piace molto perché a me piace andare a capire indagare è l'ansia esistenziale ovvero quel tipo di ansia che ci avverte che la nostra vita non va che c'è qualcosa che non ci piace che non siamo soddisfatti che non siamo felici che non siamo realizzati ed ecco allora che c'è questa ansia che accompagna tutte le giornate e questo è un tipo di ansia esistenziale inutile curarla con i farmaci capito? cioè non ha senso quello che ci vuole è un cambiamento una presa di coscienza molto spesso l'ansia segnala che abbiamo delle potenzialità delle qualità delle possibilità che non sfruttiamo e sono lì magari il residuo del passato magari uno dice io da ragazzo mi piaceva fare questo quest'altro avevo questa passione dipingevo suonavo scrivevo adesso non lo faccio più queste sono qualità che sono rimaste lì non si sono realizzate e sono state abbandonate in questo caso l'ansia ce lo sta dicendo ci sta dicendo che abbiamo uno dei beh io faccio molti video su TikTok non so se c'è qualcuno che mi segue lui di TikTok ma questo è un video che farò che in fondo molti ansiosi solo artisti non sanno di essere a parte il fatto che tantissimi artisti sono ansiosi e questo è anche ovvio perché perché gli artisti dovrebbero e lo sono essere emotivi sensibili e l'altra faccia della sensibilità è l'ansia quindi moltissimi artisti sono ansiosi però tante volte io ho avuto a che fare con dei miei pazienti che erano degli artisti senza sapere perché avevano delle appunto ripeto delle qualità delle potenzialità delle capacità che non avevano tirato fuori e quell'ansia segnalava questo che a un certo punto della vita si fa anche un po' così un bilancio no? della propria esistenza quindi a un certo punto della vita ecco che anche volendo si comincia a pensare cosa ho fatto cosa non ho fatto cosa ho realizzato di me stesso dalle mie qualità di quello che avrei potuto fare avrei potuto seguire un'altra strada oppure no? sono felice sentimentalmente oppure no? è chiaro che la felicità con la F maiuscola è difficile da ottenere il nome forse non esiste no? un grande psicologo Maslow diceva la felicità è fatta di picchi picchi fette momentanee poi si sceglie the peak the peak experiences diceva no? esperienze cool però la serenità sì quella si può cercare no? la serenità e quando manca ecco che può scattare l'ansia ebbene c'è poi un'altra ansia che è l'ansia nascosta che è quella dei vari disturbi l'ansia delle somatizzazioni ne avete sentito parlare penso no? chi di voi non ha beh spero di no però insomma sono mali molto diffusi cefalea cefalea gastriti coliti ezemi nessuno dolori vari problematiche di cuore che poi meno male si capisce che il cuore non ha nulla no? aritmie tachicardia tutti questi disturbi per cui si va da mille medici a volte ti fanno un sacco di esami anche giustamente perché bisogna anche escludere che siano problematiche fisiche organiche e poi il medico alla fine gli dice ma guardi è stress è stress oppure il medico dà dei palliativi dei farmaci che riducano la sintomatologia per esempio una sintomatologia diffusissima è il colon irritabile la colite oggi quasi tutti soffrono di colite e la colite il colon irritabile è un classico sintomo di somatizzazione dell'ansia della tensione a livello viscerale qualcosa non ci piace qualcosa non ci soddisfa vogliamo eliminare qualcosa e trattenerlo no? perché è tipico del colon irritabile è per mansa giusto? e quindi questa è ansia somatizzata e il bello è che può assumere mille forme anche per esempio il dolore somatoforme è chiamato così sono dei dolori atipici che possono riguardare qualsiasi parte del corpo e che non hanno una spiegazione a meno non a livello medico quindi vengono anche lì fatti moltissimi esami e alla fine si conclude che non c'è nulla di organico insomma meno male però non c'è ecco in quel caso è il corpo che piange il corpo piange il corpo piange o protesta ci sta dicendo qualcosa con tutti quei dolori ci sta parlando di un dolore più profondo che magari noi non sentiamo facciamo finta di non sentire ma c'è e allora si esprime attraverso il corpo ricordiamoci che tutte le nostre parti fisiche con cuore tutti i nostri organi sono diretti da una grande orchestra che è nel cervello e se nel cervello ci sono i pensieri e se nel cervello ci sono quelle sostanze che agitano e beh poi tutto questo va in tutto il corpo può andare a colpire qualsiasi organo attraverso anche un linguaggio metaforico no? quante volte noi diciamo quella persona quella situazione mi sta sullo stomaco oppure a pelle non mi piace o non so quel tipo di lavoro mi fa venire la nausea no? sono e questo è un linguaggio antico saggio che già per oggi faceva capire che se io ho mal di stomaco forse c'è qualcosa a parte se non ho nulla naturalmente a livello gastrico forse c'è qualcosa che non digerisco nella mia vita nella mia professione nel mio ambito nel mio ambiente e questo è il bello anche andare a comprendere il linguaggio metaforico del corpo che però è diretto dalla mente quindi guardate adesso già brevemente penso brevemente vi ho vi ho illustrato molti tipi d'ansia e sono anche di più qui nel mio libro poi ne parlo ancora di più ho dato anche vari nomi l'ansia della sentinella l'ansia della lista della spesa qual è? quella della persona che sta sveglia di notte pensando cosa deve fare il giorno dopo quindi programma tutto oppure l'ansia della sentinella è la persona che è sempre in stato può succedere qualcosa può venirmi un dolore può capitare questo quest'altro quella è l'ansia della sentinella o l'ansia di atlante ovviamente io ho dato dei nomi che non esistono poi in letteratura psicologica nel senso che non li trovate in internet ma l'ansia di atlante è che porta il mondo sulle spalle che si fa carico di tutti i problemi del mondo del suo mondo ma anche magari di altri e questo tipo è l'ansia di atlante perché poi c'è anche un'ansia provocata dagli altri quante volte mi si dice nel mio ufficio non ci resisto più non ci resisto più perché i miei colleghi le mie colleghe sono mi disturbano sono pettegoli pettegole parlano male di me oppure fingono di lavorare poi non lavorano è tutto questo e lì nasce poi un'ansia no? perché lì c'è un conflitto tra attacco e fuga e non si può attaccare e non si può fuggire non posso attaccare le colleghe prenderle pugni non posso fuggire perché il lavoro mi serve devo stare lì quando c'è questo conflitto attacco e fuga nasce sempre l'ansia e questo lo vediamo in certe situazioni claustrofobiche no? le chiamo così per esempio una persona in coda in automobili anche lì può scattare il meccanismo di attacco o di fuga però non posso attaccare non posso scendere dall'auto e prendere botte quali davanti o quali dietro non posso fuggire se sono in autostrada non posso fuggire lascio l'auto lì e scatto nei campi non posso quindi ecco che da questo conflitto attacco e fuga nasce l'ansia quindi situazioni di ansia che poi possono anche tramutarsi in questo caso di piccoli attacchi di panico quindi spesso l'ansia viene dagli altri qualcosa di comportante se vogliamo è che l'ansia la fabbrichiamo noi siamo noi che la fabbrichiamo no? se no non esisterebbe e beh questa consapevolezza è qualcosa che io dico spesso ai miei pazienti cioè l'ansia non può essere più forte di me perché molte volte loro mi dicono ah più forte di me è impossibile è qualcosa che fai tu che fabbrichi tu sarà forte massimo quanto te ma tu col tuo filtro con il tipo cioè l'intelligenza la strategia puoi superarla ma non può essere più forte di te quindi sapendo che l'ansia la fabbrichiamo noi possiamo imparare a distruggerla oppure a cambiare qualche cosa affinché quest'ansia non ci sia più certo capire queste cose da soli qualcuno magari ci riesce ma capire da soli non è sempre facile è qui che interviene la guida l'aiuto il compagno di viaggio direi è un psicologo è un psicoterapeuta perché questo è molto molto importante da punto di vista prima di questo vorrei dirvi che alla base di molti disturbi d'ansia c'è un problema di autostima e quindi bisogna andare a scoprire anche questo aspetto perché se parliamo di ansia della prestazione anche lì c'è il problema di autostima penso temo di non essere all'altezza e quindi ho un'autostima non sufficientemente solida per sopportare questa situazione nell'ansia della novità del nuovo nell'ansia di accettazione di essere accettati dagli altri c'è un problema di autostima perché perché non essere accettato fare una brutta figura mi procurerebbe una ferita narcisistica così forte e insuperabile che io non posso sopportare e quindi ho anche in questo caso un problema di autostima quanto scatta un attacco di panico perché si sente soli abbandonati incapaci di cavarsela da sé anche lì c'è il problema di autostima che si crede di non essere capaci o all'altezza ecco perché qui ho scritto l'autostima si impara perché questi tre libri sono un po' una conseguenza l'uno dell'altro l'autostima si impara perché in effetti tutto non si può imparare nella vita e anche l'autostima si può allenare si può imparare se parliamo di autostima guardate che non si nasce con l'autostima solida o l'autostima debole non è un tratto genetico neppure l'autostima l'autostima si comincia a formare nell'infanzia le prime persone che fanno da specchio al bambino sono i genitori il bambino vende un riflesso di se stesso nelle parole nei gesti nei comportamenti dei genitori e se i genitori cominciano a trasmettergli dei messaggi positivi facendogli capire che è valido che è bravo che è intelligente che è gamba beh questo comincia a mettere le basi a una solida autostima le esperienze di vita successive contribuiranno a aumentare e solidificare questa autostima oppure ad avvassarla può capitare le esperienze poi successive scolastiche le esperienze sportive con gli amici i primi amori e avanti e via via i lavori i primi lavori il primo lavoro quindi tutto è così l'autostima è quello però ripeto si può sempre migliorare qualche cosa quindi anche l'autostima poi esiste il paradosso dell'autostima sapete com'è il paradosso dell'autostima chi si stima poco automaticamente vale di più e perché? perché chi si stima poco ha una percezione di sé distorta ovvero si dà sempre un voto all'arribasso perché si stima poco quindi non può essere obiettivo e oggettivo nei suoi giudizi su se stesso sugli altri sì ma su se stesso no è un po' come un daltonico sapete il daltonismo daltonico vede i prati rossi però gli altri dicono guarda che quel colore che vedi non è rosso è verde allora lui impara che quando vede quel rosso lì in realtà è verde tipo il semaforo anche no però avrà sempre questa percezione distorta visiva e che a poco l'autostima è lo stesso avrà sempre una percezione di sé al ribasso però se capisce che non riesce ad essere oggettivo con se stesso se capisce che quando una cosa si dà un voto deve sempre aumentarlo di una o due unità ebbè allora le cose cominciano un po' a cambiare può cambiare quindi quando in una certa cosa lui si valuta cinque magari vale sei e mezzo almeno e questo è il paradosso dell'autostima poi vabbè in questo libro non parlo solo di questo consiglio do vari consigli anche esercizi per aiutare a incrementare l'autostima invece il coraggio di cambiare vita e questo si riferisce all'eventualità che la pazienza sia il caso di modificare qualcosa nella nostra vita quindi i casi sono due una vita che non va che non piace che non soddisfa si può o rivoltare come un guanto cambiarla completamente ma non è facile non credo che sia tanto facile oppure si può migliorare migliorare certi aspetti oppure possiamo cambiare noi e imparare a vivere e apprendere certe cose che non ci piacciono in un modo differente a essere più impermeabili o essere più come si può non dico me ne fregisti ma più sani egoisti tra l'altro istruzioni di sano egoismo è un altro libro che ho scritto molto tempo fa quindi in definitiva io vedo le persone un po' come fossero alberi dove nelle radici abbiamo l'autostima e l'humus l'ambiente dove questa persona è cresciuta e nata più le radici sono forti più l'albero è forte più l'albero resiste alle tempeste della vita se le radici sono deboli l'autostima è debole ecco che già c'è un problema di vulnerabilità il tronco invece rappresenta la personalità la forza di questo individuo e sul tronco sulla cortezza c'è tutta la storia dell'albero quindi tutto quello che ha vissuto che ha passato tutto quello che magari gli ha fatto male ma l'ha anche rinforzato e sulla chioma nella chioma c'è l'espressione di sé nella chioma ci sono le foglie i frutti i rami c'è quello che questa persona può dare quando l'espressione di sé è bloccata è oppressa è compressa ecco che scatta l'ansia ad esempio e quella è l'ansia esistenziale di cui vi parlavo in precedenza quindi come vedete l'ansia ha molte 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 spaccettature grazie un aspetto da evitare e vi riferisco agli ansiosi è la famosa professia che si autodetermina oppure autoprevisione previsione che sia autodetermina cioè io prevedo qualcosa di negativo e poi questo qualcosa si avvera ma non perché siamo dei maghi ma perché il nostro atteggiamento il nostro comportamento fanno sì che quella cosa finisca per avverarsi davvero questo vale in tutte le cose anche in amore prima o poi questo mi lascerà prima o poi mi tradirà per cui metto in atto certi atteggiamenti anche oppressivi fastidiosi che alla fine quella persona dice no ti lascio ti tradisco non ne posso più no questo ecco vedi avevo ragione certo però il tuo comportamento io avevo un paziente per esempio che un ragazzo che aveva proprio quell'ansia di accettazione di non essere accettato di non essere non piacere di non essere ben voluto e mi aveva detto ah mi hanno invitato una festa i miei genitori insistono perché vada perché dicono che hanno mai amici non presento mai nessuno io ci vado ma so già che non mi divertirò questa è la classica previsione che si autovera perché questo ragazzo va alla festa cosa fa? prende una sedia si mette in un angolo con la schiena rivolta agli altri e sta lì tutto il tempo e poi mi dice non mi sono divertito però questo comportamento che l'ha ha portato a non divertirsi oppure previsione che si autovera so già che starò male classico dell'ansioso e poi sta male ma perché quel so già che starò male è fatto in modo che fattricasse continuamente ansia con il timore di star male finché questa ansia esce sta male però se no non so che starò male bene penso di aver fatto insomma una veloce allenata su tutti questi aspetti dell'ansia e penserei se volete fare qualche domanda o se c'è qualche argomento che vi interessi da sviluppare i quali che ho citato c'è un'ansia di essere il primo a parlare dopo diamo il voto sicuramente sicuramente leggerai sui pendri ah beh tre no facciamo un ciclo completo sì sì il primo diciamo sulla autostima mi dico semplicemente va bene si può lavorare il mio libro è collaborare sull'autostima forse forse è la parte più praticabile ecco vuole dire più semplice più praticabile poi quello che mi fa più paura è il coraggio di cambiare perché a volte siamo in una situazione dove come diceva lei per esempio il lavoro non possiamo cambiarlo dobbiamo solo cambiare la mentalità l'approccio ma il lavoro oggettivamente non possiamo cambiarlo poi può essere magari una relazione forse bisogna cambiarla si può chiudere il lavoro magari no allora va dal terzo libro che è l'ansia vista in maniera proattiva e qui diciamo parto con la mia personale considerazione arriva il consiglio che le chiedo nel leggere il terzo libro trovo una difficoltà che è quello di far comunicare la parte razionale nostra che dice ti fa elaborare la situazione ti fa riconoscere degli alert che siano in famiglia che siano in lavoro e si scontra con la parte fisica psicologica emotiva anche emotiva che magari è anche condizionata da degli esami cortisolo per cui la razionalità ti dice in questo momento ti senti debole perché la testa te lo fa riconoscere cerca di essere più energica più forte però il cortisolo obiettivamente ti butta giù magari l'umore come si può far magari hai l'attacchicardia una giornata sì una giornata no come si può fare a comunicare meglio questi due mondi perché alla fine messi assieme sono la persona e c'è questo conflitto che la testa dice una cosa fisico o le emozioni non la simbolo che bisogna vedere chi prende il suo provvento intanto se passa la paura di avere qualcosa di fisico perché si capisce a livello proprio definitivo che questa sintomatologia è dovuta all'ansia già l'emissione o la produzione di cortisolo e di adrenalina diminuisce perché vengono queste emissioni o secrezioni vengono sostenute dalla paura che le fa aumentare poi cosa fa lo psicologo proprio questo un lavoro io chiamo lavoro perché è un lavoro un lavoro sulla parte emotiva affinché questa parte emotiva intanto avvenga la coscienza che molto spesso ha sommersa e che poi questa parte emotiva da questa parte emotiva nascano le potenzialità e le qualità di questo dell'individuo utilizzando anche delle tecniche specifiche nel mio caso io utilizzo molto il training autogeno le visualizzazioni le vaccinazioni ma ci sono anche altri che citavo l'ipnosi in precedenza non è così semplice invece lavorare sull'autostima non è la parte più semplice perché è la parte più antica e più profonda però si può fare allora anche il coraggio il cambiare vita il cambiare vita può essere anche visto da vari aspetti per esempio c'è quella che io chiamo il sindrome del criceto ovvero che ha una vita come corresse sulla stessa rotellina come il criceto nella gabbia quindi sempre uguale sempre uguale sempre uguale cambiare vita vuol dire anche inserire delle novità in questa vita avere un'idea felice in tasca io lo dico questo lo consiglio spesso tenere una piccola idea felice in tasca qualcosa di bello che mi appassiona da fare magari posso dire oggi ho una giornata di lavoro pesante non mi piace quello che faccio però però so che farò questa cosa stasera faccio questa cosa mi guardo questo film vado in palestra mi incontro con un amico vado a teatro non lo so vado a correre una passeggiata ecco tutto questo quindi la vita si può cambiare anche minimamente non è che vada trasformata completamente minimamente ma quel minimo che comunque serve a dare un po' di scintille perché quando mancano le scintille venga l'ansia un'altra cosa guardate che il piacere per noi è come la vitamina C esenziale esenziale una volta c'era una pubblicità il cervello ha bisogno di zucchero non so se l'avete mai sentita in realtà il cervello ha bisogno di piacere piacere tutte le sue modalità diverse perché il piacere è esenziale alla vita il bambino ce lo fa vedere il bambino ragiona ragiona diciamo ragiona soltanto sull'orda del piacere poi viene insegnato il dovere questo si fa questo non si fa poi devi fare i conti le studiate ma il bambino vorrebbe avere solo piacere questa è la nostra tendenza base noi tendiamo verso il piacere ma non possiamo perché la società di oggi la nostra vita ci costringe a avere sempre meno piacere sempre meno sempre meno sempre meno sempre meno e questo provoca ansia insoddisfazione tensione quindi cambiare vita anche in questo senso anche in senso soft non così difficile e poi magari giustamente come diceva anche lei imparare a prendere certe cose della nostra vita dal punto di vista psicologico in modo un po' diverso le fobie sono volerate all'ansia ma sicuramente sì cioè la fobia è una paura esagerata no? no è chiaramente è una paura di qualcosa è una paura di qualcosa c'è l'agorafobia paura degli spazi aperti claustrofobia paura del chiuso eccetera la fobia procura molta ansia una fobia può provocare anche un attacco di panico quando siamo a contatto con quella cosa che ci spaventa così tanto una fobia una ragnofobia paura dei ragni se una persona a un certo punto si trovasse un ragno che le cammina sul braccio può avere un attacco di panico quindi molta ansia certamente quindi è la fobia che determina l'ansia si è la paura che determina l'ansia in quel caso la paura provoca ansia poi c'è anche un'ansia senza paura in apparenza nel senso una persona ha l'ansia di tutto il giorno non sa perché non perché c'è se l'ansia la creiamo noi la società ci porta a sviluppare ansia in quale fase si può in quale fase si diventa consapevole comunque si crea l'ansia già da bambini può essere già da bimbi quando già si portano a creare delle situazioni strutturate già da più di piccoli può essere si si l'ansia si comincia già bambino nel momento in cui comincia a capire un po' come funziona il mondo e quindi già verso i 5-6 anni c'è anche una fobia un'ansia della scuola ad esempio un'ansia della scuola che inizia molto precocemente e quindi paura di tante cose paura del nuovo paura di allucinarsi da casa paura dei voti paura del giudizio paura degli insegnanti paura della socializzazione paura di uscire dal proprio nido e lì già ansia e lì i genitori sono fondamentali in questa in questa situazione ovviamente sì sì l'ansia si può sviluppare molto precocemente ci sono pochi ansiosi no per quanto collegandomi alla domanda che ha fatto lei il discorso dei bambini e dei ragazzi quando è giusto invece proteggere i bambini o i figli anche nell'ambito scolastico dalle ansie e quanto invece è giusto che le provino per poi diventare magari più forti da adulti e non trovarsi poi da adulti con questa falanga che gli si questo treno che a 100 all'ora gli si va contro io sono un po' sulla linea di crepe non so se l'avete mai ascoltato e penso anch'io che non vanno troppo protetti i bambini che è giusto che facciano esperienze è giusto che si sbuccino le ginocchia che cadano che si feriscono beh non gravemente ma che che incontrino le sconfitte per diventare più forti facendo una prentesi io con tanti campioni dello sport che ho seguito mi hanno spessissimo detto le sconfitte mi hanno rinforzato no? questo va anche per la vita e va anche per i bambini per i ragazzi le delusioni le sconfitte aiutano a rinforzarsi se tutto viene invece subito predicato no? protetto e se si trova sempre una scusa anche i genitori no? è colpa dell'insegnante sì tu sei bravo è colpa di quello l'altro è colpa di scuola è lui cattivo tu sei bravo tutto questo questo qui diventano dei bonsai che non crescono mai anche da tutti saranno dei bonsai dei piccoli adulti secondo me in una vita serena non dico felice perché la felicità diciamo serena in cui avviene un evento traumatico che può essere la mancanza di una persona cara o come può essere una malattia sì ad esempio come si può poi da lì in avanti immettere l'ansia che questo evento possa ricapitare nella vita serena che si aveva prima cioè dopo un evento traumatico quest'ansia che si manifesta è una nuova ansia che prima non c'era prima non c'era esatto ecco come si può continuare a vivere in serenamente pur avendo un'ansia costante beh ma quest'ansia costante poi deve passare no nel senso tutti gli eventi traumatici tutti i lutti hanno dei tempi di elaborazione non si può pensare di elaborare un lutto una perdita una mancanza in cinque minuti cioè addirittura qualcuno ha cercato di stabilire dei tempi dicono un minimo sei mesi poi io penso che sia molto soggettivo e personale in questo discorso no e quindi c'è un tempo dove è giusto che ci sia l'ansia un po' di depressione una sorta di depressione naturalmente reattiva cioè come reazione a una situazione poi però la vita deve riprendere no e lì o ci se la fa da soli e poi la persona rifiorisce un po' come gli alberi mi faccio sempre mi riporto sempre all'esempio dell'albero oppure c'è appunto bisogna avere un aiuto un aiuto psicologico io ho una domanda come si fa a rendersi conto di quando l'ansia è positiva o sta diventando distrutta io faccio l'esempio se una persona ha l'ansia di vivere magari determinati momenti che possono essere momenti lavorativi o momenti di socialità tra le persone poi lì vive e si rende conto che avere avuto l'ansia in realtà è stata una cavolata tra virgolette quando ci si rende conto invece che quell'ansia sta diventando non più positiva e poi è tutto passato e sta diventando distrutiva perché fa vivere male tutto in realtà diciamo bisogna bisogna chiedersi che cosa mi sta dicendo questa ansia in questo momento quindi mi sta dicendo che mi preoccupo troppo oppure che non so accettare certe situazioni certe cose ma voglio veramente cambiarle oppure è meglio che cambi io il modo di prenderle quindi l'ansia è un messaggio ci dice qualche cosa poi è disturbante ma se non disturbasse chi l'ascolterebbe? nessuno se non fosse un sintomo disturbante è come una voce che crida forte da fastidio però è volutamente da fastidio come sconfiggere un'ansia pressante durante tutta la giornata che è pressante come come o come convivarci beh allora una regola è che l'ansia più l'ansia ascolta più aumenta questo è tipico più ci faccio caso più aumenta tante volte tante volte ci sono persone che vanno a cercarsi l'ansia nel momento in cui non c'è non c'è come mai non c'è comincia a chiedere se no è l'ansia agricola quindi meno ci si pensa e più l'ansia sparisce se no aumenta 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 e questo è un dato di fatto poi insomma ripeto bisogna capire anche il perché c'è quest'ansia darsi una spiegazione ed eventualmente cercare delle soluzioni alternative anche se non sempre semplici naturalmente e poi esistono tecniche anti-ansia che a poco a poco naturalmente perché non parliamo di tecniche magiche è chiaro che se una persona che ha molta ansia assume 30 gocce di valium stesa non c'è più però poi finito all'effetto torna tutto come prima invece le tecniche dello psicologo dello psicoterapeuta trasforma in un lavoro silenzioso lungo più o meno lungo a volte no non è lunghissimo però un lavoro che chiaramente non è una banchetta magica però a poco a poco a poco a poco rinforza la personalità cambia il modo di prendere le cose aiuta a non lasciarsi più travolgere dalle situazioni e dai problemi scusate però mi è stata l'ansia vuol dire anche avere un pensiero razionale cioè cercare di essere razionale quindi ragionale direi non esiste questo problema perché te lo fai però quando io parlo con le persone ansiose mi dicono guarda che per te è facile essere razionale perché non lo sei ma io sono ansioso è invece difficile riuscire a razionalizzare diciamo l'ansia cioè non so come dire però spesso se io parlo con una persona ansiosa che dice io non riesco a ragionare nel momento in cui sono ansioso e dire ma perché sono ansiosa per una cosa che magari non esiste cioè per un pensiero negativo che magari non ha fondamento ecco è difficile per una persona ansiosa essere razionale questo che è certamente no ma ci confrontiamo con un discorso evolutivo quindi la razionalità funziona fino a un certo punto però è molto importante che un ansioso capisca prima di tutto che la fabbrica lui quest'ansia che non è una malattia che non è un virus e che più ci pensa più aumenta e che quando ha qualche sintomo non sta muovendo questo è no ma è fondamentale già questo comincia a stemperare le cose poi ovviamente bisogna svolgere un lavoro con questa persona capisci cioè tutto una un approccio psicoterapeutico per eliminare questo modo di prendere le cose anche di vivere le cose in questa situazione è chiaro che d'acchito è facile dire non pensarci non farlo ma non è niente ma però poi non ci riesce questa persona non si osa come quando si cerca di spiegare quanto è buona l'antenne leggendo l'antenne come quando si cerca di spiegare com'è buona l'antenne leggendo l'antenne o si sente ma se si ragiona non si fa assolutamente e si oltre al sentire e ancora il ragionamento la mente questa situazione ci riguarda il tema persona come si gestisce l'ansia degli altri quando una situazione ci capita però rende assoluto le nostre intorno ci vogliono bene e non noi prima persona anche se questo evento è capitato a noi come si gestisce l'ansia degli altri che si percuote nella vita della persona che ha subito questa determinata situazione questo è un brino logiale nel senso non è che si può sapere è chiaro che l'esempio che lei dà nel momento può aiutare l'altro oppure agitarlo di più e perché è anche una rassicurazione può avvenire anche tramite un linguaggio del corpo se io dico no no non mi preoccupo ma poi la faccia preoccupata chi mi sta vicino si preoccupa quindi in quel momento è solo lei l'artefice del discorso che può aumentare quest'ansia oppure abbassare certamente è diverso il fatto di difendersi dall'ansia degli altri bisogna fabbricarsi uno scudo a volte oppure un po' di sano egoismo come dicevo io voglio chiedere invece chi si fa a combattere l'ansia esistenziale l'ansia esistenziale esatto quindi non hai ancora raggiunto gli obiettivi che ti hai riferistato da quando eri piccolo fondamentalmente non li hai raggiunti e ci lavori nel raggiungimento degli obiettivi però questo ti provoca ansia perché pensavi che li avresti raggiunti anni prima ecco cioè provoca ansia perché pensavi di raggiungerli questi obiettivi prima in realtà non li hai ancora raggiunti e quindi ti provoca una sorta di ansia esistenziale questa cosa del cioè di avere perso tempo circoluzioso sì circoluzioso di aver perso tempo e di non averlo e di non raggiungere l'obiettivo stesso sì ma mentre lei pensa questo perde tempo però questo provoca ansia perché comunque nel frattempo che cerchi di raggiungere l'obiettivo hai l'accantonanza che ti dice non l'hai ancora raggiunto è quello è giusto la scritta la ricerca del tempo perduto ma non possiamo fare più niente possiamo lavorare sul presente sul futuro e quindi dobbiamo fare in modo che il presente sia adatto al nostro futuro e quindi oggi conta che gli impianti non servono bisogna capire questo so che vabbè poi rimane dentro questa idea potevo farlo prima potevo arrivare prima però qual è l'utilità di quest'ansia quell'ansia viene da un senso di insoddisfazione e va è qualcosa che va è un riflesso di un'autostima bassa in quel momento lì in quel momento lei non si stima perché dice dovevo farcela prima vero quindi è il riflesso di quello l'importante è farcela prima o poi c'è chi non ce la fa mai la montagna si scala passo dopo passo non è possibile comunque io penso che si possa sempre fare qualcosa di nuovo nella vita in qualsiasi età in qualsiasi momento oltretutto oggi le potenzialità di vita la possibilità di fare cose diverse nella vita sono molto aumentate quindi da un lato questa società ci ha ci ha tolto molto e dall'altro però ci ha dato molto oggi esistono anche le lauree online una volta è impossibile giusto oggi uno si può decidere di riprendere gli studi di laurearsi anche 70 80 anni per passione però una volta era il pensante è un esempio bene la se l'hai passata tutta ma avete sonno ci sono altre domande grazie 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 grazie